Elisa Camporese al termine della strana sconfitta del Tavagnacco in casa contro Ravenna e quindi chiediamo a Elisa Camporese cosa non è andato oggi? Purtroppo non è andato niente, ci sono susseguiti una serie incredibile di errori, tecnici, un po' di nervosismo sicuramente, il gol dà coraggio agli avversari, abbiamo tutte quante rincuorato subito Serena perché Serena è stata importante in tantissime altre occasioni, un errore ci può stare perché tanto quanto sbaglia un portiere, tanto quanto sbaglia poi un attaccante quindi quello non è stato il problema, il problema è stato un po' di atteggiamento e sicuramente tensione e poi secondo me nel calcio ci sta sempre anche proprio la cosiddetta giornata no in cui non te ne va detta una, in cui crei le occasioni da gol e prendi un incrocio, un palo, una traversa oppure la manchi di un soffio e esce, insomma ci è andato tutto storto e purtroppo adesso l'unica cosa da fare come sempre è rimboccarsi le maniche e pensare alla prossima partita. Esatto, prossima partita che sarà contro il Verona in casa loro visto che l'Atalanta oggi ha vinto, insomma bisognerà rivedere in campo il Tavagnacco, lo stesso spirito del Tavagnacco che ha vinto a Empoli o che ha vinto qui contro la Fiorentina. Sicuramente il mister ce l'ha già detto che dobbiamo ripartire con lo spirito giusto, credo che da questo punto di vista non mancheremo perché il silenzio dello spogliatoio ha parlato chiaro, cioè per tutte quante credo che ci sia già assolutamente voglia di rifarsi, di riscattarsi già dalla prossima partita anche perché sarà importante far capire chi siamo a Verona visto che poi le rincontriamo per la Coppa.